Al centro di Roma con un'artista incantevole, lei è una regista e ci dirà adesso un po' tutto quello che fa. Innanzitutto ricordiamo ai nostri ascoltatori e telespettatori come ti chiami. Mi chiamo Maria Elena Masetti Zannini e appunto volevo grazie di questa occasione per pubblicizzare un evento teatrale che andrà in scena dal 26 al 29 di novembre al Teatro Anfitrione, uno spettacolo di Enza e Ligioi che si intitola A chi gioverebbe? Delitto e castigo in una casa di piacere. Quindi si parlerà appunto di un delitto all'interno di un casino durante il periodo della chiusura delle case chiuse. Bene, bene. Allora noi siamo contenti, magari veniamo proprio a vedere, a fare un po' di report. Grazie di cuore e grazie per avermi dato la possibilità di poter pubblicizzare questo spettacolo. Grazie Emanuela. Grazie a voi, grazie per i begli eventi che organizzate.